comunicazione come strumento di lavoro. Ritorno sulle slide perché a questo punto vi faccio vedere una cosa. È vero, Rimini è piena di Rimini, ne ha parlato chiunque, abbiamo detto di tutto, è stato detto di tutto, c'è Google che dice quella cosa, però di qualunque cosa si è detto tutto. Sapete che cos'è questa che state vedendo nelle slide? È un'opera d'arte moderna, l'ha fatta Cattelan ed è una banana attaccata al muro con del nastro isolante. Questo è il contenuto, quello che è ispirato nel mondo dell'arte è stato un vero terremoto. Quest'opera costa milioni, ha fatto parlare di Cattelan per tantissimo tempo, vi ricorderete che credo fosse più o meno alla fine dell'estate scorsa. Eppure è composta da un nastro isolante e una banana, un argomento trattatissimo da chiunque. è stato detto. Grazie a tutti.